Certo che dopo tutta questa inflazione, quanti anni sono passati? Per quanto mi riguarda 33 anni, c'è stato tutto, tutto ovunque, disjockey, anche quelli che non devono fare il disjockey, cantanti che sono diventati DJ, modelle che sono diventati DJ, non so, anche il ristorante qua sotto fanno il DJ, piuttosto è il proprietario che si è messo a mettere due dischi. Per cui parliamo di questo futuro, come sarà il futuro? Io spero che per le nuove generazioni, per tutti quelli che amano questo nostro lavoro, ricominci tutto da capo, che il cerchio finisca, che finiscano tutti questi personaggi improvvisati, che finiscono tutti questi pop star da quattro soldi che in realtà hanno preso in giro tutti e che forse la gente è stata pure giusta che hanno speso tanti soldi e si sono fatti prendere in giro. Ma speriamo che tutto finisca per iniziare come è iniziato con noi e che mio figlio, che è buonsangue non mente, fa questo lavoro, possa godere anche lui di quelle emozioni che ho vissuto io, essendo anche lui un anticipatore, uno che ama certamente la musica non facile, non commerciale, per cui che tutti questi ragazzi, questi giovani riescano ad avere queste forti emozioni che abbiamo vissuto tutti noi, perché siamo stati molto fortunati, abbiamo vissuto questi anni meravigliosi, dagli anni 70 ad oggi, che ci hanno emozionato, ci hanno fatto vivere tante cose belle, per cui mi auguro che tutto possa rinascere, perché in realtà questo virus non finirà mai.